Ciao a tutti ragazzi qui Awe dove Toad si pone facendo una crisi d'identità Oggi incredibilmente ho un maione rosso, un film che non ho mai visto così tanto colore nel mio canale Siamo tornati oggi finalmente con i commentary per aver promesso almeno un episodio settimanale Che stanno uscendo incredibilmente quanti video sto facendo Sono felicissimo che il video precedente vi sia piaciuto e abbiamo di tutto superato i 40.000 like Se volete il nuovissimo episodio dei commentary con i personaggi più assurdi del web Mi raccomando raggiungiamo i 40.000 like per un nuovissimo episodio Vi ricordo inoltre di venirmi a stalkerare su tutti i social possibili e immaginabili Tra Twitter, Instagram, Facebook e pagina dove nei prossimi giorni caricherò tantissimi vines Sì per poter fare anche tanti vines, vedete ma seguite anche sulla pagina E vi lascio quindi con questi personaggi 5 per 2 Ah le tabelline ma vabbè quelle sono facili 5 per 2 48 Ecco appunto 7 per 7 45 Secondo quale unità di misura questa cosa? 5 per 3 5 per 3 50 54 Eh per po' Se sei allontanata di po' Qua è giusto quel tantino per essere ignorante 2 per 2 2 per 2 40 48 Ma come? Come? Come è possibile che viene fuori 48? Ma anche mi sti dare facevo 48 42 3 per 3 9 6 Scusate questa volta lo ammetto ho sbagliato io Oh no c'è sbagliato No no quando mai il momo ha detto scusate assolutamente ho sbagliato io che spiegatevi le rette del cervello Oh è sbagliato Eh ma è il socio Lo sa che già Che d'è? Che è il socio? Lo sa che già Che d'è? 7 per 7 43 Ma prima facevo 45 Com'è possibile che mu fa 43? Non ci sto capendo più niente 8 per 9 45 Da non confondere col 45 45 è un altro numero È quello che usano le femmine magari 4 per 12 40 43 Mi raccomando tenete bene almeno il fatto che 7 per 7 fa 45 ma che allo stesso tempo 7 per 7 fa pure 43 Che lo stesso numero viene fuori pure moltiplicato 4 per 2 Che sogno? Grazie Che sogno Io li sogno i numeri E tabellino è sogno 1 per 1 1 2 per 1 2 3 per 1 3 Cos'è? Un genio risolvato cos'è? 2 per 2 2 No no l'hanno perso nata a voto scusate 8 per 8 48 9 per 9 49 10 per 10 10 È normale 10 per 10 fa 10 perché 0 per 0 0 1 per 0 10 Quando si dice dare i numeri 3 personaggi ed una crisi di identità La mia E' tutto inutile Che chiami anonimo Che chiami anonimo Uffa fessa a te Ma lo sai già Outfit Capelli che scendono come fosse una bellissima pianta rampicante La cheffia Cioè la cheffia Cioè andiamo a fondo La cheffia Pantanoni che cominciano male e finiscono peggio Scarpe parallele delle hogar Che molto raffinatamente qui a Napoli ne definiamo di qua sotto Enzo Michio Aproved 300.000 volte Te l'ho detto già Cosa che non sto capendo Cosa Che non mi piace Come a me te lo devo dire Non le piace Non ti arendi mai Arendi 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 Io ho capito che la R non ce l'ho E vabbè Ma tu che ce l'hai? Metti ce l'ho Che ci sarebbe gente che pagherebbe per averne una Non mi piace Non mi piace Voglio farlo capire Ma come voglio farlo capire Quello in faccia gli lo sta dicendo Che è scemo che non capisce Oddio Lasciami stare Non mi cercare perché Giulio è più bello di te Giulio che Giulio Giulio Non vuoi capire che Giulio è Giulio Come fa a capire chi è? Giulio è Giulio Nella mia mente Giulio 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 Giuro su non fai per me Madonna mia è un casino incredibile Giuro non fai per me Però Giulio non fai per lei Dici giuro Giulio fai per me E chiudiamo qua questa cosa Che non riusciamo più Giulio è più bello di te Ma è possibile che in questo genere di canzoni Ci sia sempre un ragazzo grande Una bambina piccola Che il ragazzo grande vuole sempre abusare della bambina piccola E poi qua c'è pure Giulio che Nel dubbio Giulio Va bene Io sono il mio Gio 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 Gio